Buonasera a tutti, in realtà è che è difficile rappresentare l'industria dopo gli interventi che sono stati fatti precedentemente, soprattutto perché sono interventi giusti, veri. Il mercato in questo momento rappresenta dei comportamenti anomali e non corretti, però c'è un'industria, perché di un'industria si parla, che lavora nel rispetto della legge, lavora con committenti seri, ha mandati diretti, applica le leggi dello Stato e quindi ha il numero in chiaro, fa riposare il nominativo secondo le leggi vigenti, non fa chiamate mute, paga gli operatori il giusto perché aderisce ad un contratto che è firmato con le sigle sindacali, quelle con maggiore rappresentatività e che quindi è anche penalizzato da tutte quelle che sono le regole borderline che vengono applicate da altri operatori del settore. Negli ultimi mesi l'industria ha avuto gravi problemi di redditività perché la mancanza di disponibilità di nominativi porta a rendere la vendita telefonica sempre più difficile. Noi quindi affrontiamo in un momento come questo in cui il nominativo è sempre meno disponibile, in cui siamo sempre più impossibilitati a fare performance, ad affrontare delle leggi restrittive che non andrebbero a toccare quelli che non rispettano le regole del mercato ma andrebbero a distruggere l'industria seria che comunque occupa migliaia di persone. Quindi non basta solo inaspirire le leggi, bisogna contemporaneamente evitare che chi non le rispetti continui ad operare. Perché la domanda che poi mi pongo è, nel momento in cui noi estendiamo il registro di posizione anche i numeri mobili e quindi restringiamo il numero di numeri chiamanti, come facciamo ad essere sicuri che chi froda attualmente, perché di frodi si parla, non continui a farlo anche successivamente? La mancanza di controllo sui nominativi utilizzati è un comportamento anomalo che non potrà essere evitato anche successivamente, quindi la prima vittima di iniziative come quelle che sono in discussione, sono le aziende serie, quelle che danno occupazione, quelle che pagano il giusto, i committenti e quindi perdono un canale di vendita importante che muove l'economia e che è stato comunque il successo negli scorsi anni che ha fatto passare dai mercati monopolisti a quelli liberali. Quindi è una domanda importante, è giusto tutelare il consumatore, ma è giusto anche tutelare le aziende che operano nel rispetto alla legge. Diego Pisa, una battuta velocissima, siete a favore della condivisione delle black list di cui il governo ha parlato? Attualmente le black list, le aziende serie le producono in autonomia, ogni volta che noi contattiamo un cittadino e quel cittadino espressamente dice che non vuole essere richiamato, indipendentemente sia il registro di opposizione che abbia del consenso, noi mettiamo quel nominativo in una black list, viene eliminato ai nostri database e viene fornita ai clienti, ai committenti. Quindi le aziende serie, virtuose, quel nominativo non lo fanno più girare, sono quelle non virtuose, quelle che vendono il nominativo, quelle che hanno sia lato committenza che il lato fornitori, che hanno un comportamento anomalo, che fanno girare il nominativo. Noi abbiamo ispezioni costantemente, noi collaboriamo col garante proprio per segnalare comportamenti non corretti che sono per noi, ci distruggono il lavoro, ci distruggono il business, certo. Grazie a tutti.